Benvenuti ragazzi, oggi parliamo del rapporto tra intellettuali e potere politico nell'antica Roma, un discorso che comunque può essere attualizzato ai nostri tempi. Comunque noi concentriamoci sull'antica Roma. Allora in età repubblicana non esisteva nessuna forma di contrasto tra intellettuale e politica, in quanto essendoci la libertas repubblicana ed essendo per ogni civis quasi un dovere partecipare alla vita politica e quindi anche per un intellettuale, di solito intellettuale e uomo politico potevano anche coincidere, come nel caso di Cicerone, il quale è sia un uomo politico, un oratore, un avvocato, un giudice, sia un intellettuale. E tra l'altro lo stesso Cicerone nel suo trattato, l'orator, sostiene appunto che la figura del perfetto oratore, quindi del perfetto uomo politico, deve avere sia il talento e l'esperienza politica, sia anche una profonda cultura, soprattutto filosofica. Quindi nel caso di Cicerone appunto intellettuale e uomo politico coincidono. Poteva anche darsi caso, pensiamo a Catullo ma anche a Lucrezio, in cui l'intellettuale, il poeta, rifiuta il negozium e sceglie l'ozium. Pensiamo a Catullo il quale scrive in un Carmen che non gli interessa se Cesare è bianco o nero, del resto appunto a lui non interessa la politica. Ecco, l'intellettuale può anche fare questa scelta, dedicarsi all'ozium e rifiutare il negozium, però certo nel senso di, ecco, non interesse per il negozium, no nel senso di opposizione alla politica. Quindi in età repubblicana non esiste nessuna forma di scontro tra l'intellettuale e il mondo politico. La situazione cambia nell'età di Augusto, ma perché? Perché cambia la struttura stessa dello Stato romano, perché dopo la morte di Cesare, come sappiamo, si passerà dalla libertas repubblicana al Principato di Augusto. Quindi in una situazione in cui a comandare è una sola persona, in questo caso Gaio Ottaviano Augusto. Per cui quelli che erano i cives, i cittadini, non sono più cittadini che partecipano alla vita politica, ma sono sudditi e così lo sono anche gli intellettuali. E allora in questo caso la scelta può essere di due strade, o quella di collaborare col potere politico o quella di opporsi al potere politico. La collaborazione tra potere politico e intellettuali ce l'abbiamo nell'età di Augusto. Ce l'abbiamo nell'età di Augusto perché intelligentemente, o diremmo anche furbescamente, Augusto riesce a cooptare le simpatie degli intellettuali del tempo, dei maggiori intellettuali del tempo, grazie anche all'abile politica del suo collaboratore Mecenate, il quale, come sappiamo, organizza un circolo, un circolo letterario a cui appartengono i maggiori poeti e scrittori del tempo. Pensiamo a Virgilio, pensiamo a Orazio, pensiamo a Properzio, pensiamo a Tito Livio, tutte grandi personalità intellettuali e tutti molto vicini alla cerchia della corte di Augusto. Intellettuali che, diciamo anche sinceramente, appoggiano il potere politico, la politica, il programma politico di Augusto. Pensiamo solo a Virgilio che nell'Eneide celebra Augusto tramite il suo progenitore Enea perché ha ristabilito la pace, ecco uno dei tanti meriti di Augusto. Comunque diciamo che in generale l'appoggio al programma politico di Augusto da parte di questi intellettuali è nel complesso abbastanza sincero e mai, diciamo, adulatorio. Nell'età Giulio-Claudia la situazione cambia. La situazione cambia perché abbiamo quattro imperatori che intendono il potere in maniera diversa rispetto ad Augusto, in maniera dispotica e del resto non hanno neanche l'intelligenza di mediare con il mondo dell'intellettualità. Questi quattro imperatori sono Tiberio, Caligola, Claudio e Nerone. Tutti e quattro, più o meno, hanno perseguitato e mandato a morte degli intellettuali. Pensiamo allo storico Chemuzio Corto che muore sotto il principato di Tiberio per aver scritto un'opera storica storica in cui esalta i cesaricidi. E quindi diciamo che nell'età Giulio-Claudia appunto i due monti si trovano a scontrarsi perché c'è un potere che vuole controllare e reprimere il dissenso intellettuale. Dall'altro c'è una intellettualità che si pone in opposizione al regime. Un'opposizione che si richiama soprattutto alla filosofia stoica e al modello di Catone Luticense. Se ci ricordiamo Catone Luticense è colui che dopo aver partecipato alla guerra civile tra Cesare e Pompeo dalla parte di Pompeo e quindi dalla parte della libertas repubblicana quando si accorge che Cesare è ormai vinto preferisce suicidarsi ad Utica pur di non cadere nelle mani di Cesare. Catone diventa così l'emblema della libertà, della libertà morale e viene così celebrato anche da Dante nel purgatorio tanto che Dante ne fa il custode del purgatorio e scrive per lui quei famosi versi libertà va cercando che siccara come sa chi per lei vita rifiuta. Durante questi imperatori non c'è una grande fioritura culturale tranne che sotto Nerone. Sotto Nerone perché come sappiamo Nerone era un princeps, chiamava molto la cultura e soprattutto la poesia e che si riteneva anche lui stesso un poeta anche se gli storici sostengono che fosse un pessimo poeta e quindi è Nerone che diciamo attua una politica di promozione culturale attraverso anche dei giochi poetici come delle gare poetiche come i Neronia e quindi ecco le maggiori personalità noi li troviamo proprio sotto Nerone. Tra queste maggiori personalità ricordiamo tre intellettuali Seneca, il nipote di Seneca Lucano e Petronio che sono accomunati dal fatto che tutti e tre muoiono in una congiura contro Nerone nella congiura dei Pisoni. La congiura del 64 dopo Cristo che era stata organizzata però Fallì era stata organizzata per eliminare Nerone. Parliamo di Seneca. Seneca conosceva benissimo il dispotismo imperiale anche perché aveva rischiato la condanna a morte sotto Calligola semplicemente perché, almeno così si racconta, Calligola era invidioso dell'abilità oratoria di Seneca e voleva condannarlo a morte. Poi venne dissuaso dalla moglie che gli disse che Seneca era molto malato e che quindi a breve sarebbe morto. In seguito sotto il principato di Claudio Seneca addirittura venne condannato all'esilio nel 41 dopo Cristo. Venne condannato all'esilio perché accusato di aver partecipato ad un adulterio a corte e quindi andò in esilio dal 41 al 49 e ritornò da questo esilio quando a Messalina si sostituì a Grippina, la seconda moglie di Claudio, che richiamò Seneca a Roma come precettore del figlio Nerone. E quindi Seneca dal 49 dopo Cristo si ritrova ad essere in una posizione privilegiata, cioè ad essere il pedagogo di quello che sarà il futuro Princeps di Roma. Comunque ritornando al discorso di prima diciamo che Seneca poi in un certo senso si vendicò sia contro Calligola e quando nel suo trattato de'ira ci mostra Calligola divenuto quasi un mostro perché è in preda all'ira e mentre nell'Apocolociuntosis mette alla berlina l'imperatore Claudio, immaginando che dopo la morte Claudio faccia un percorso diciamo molto parodistico, molto satirico che praticamente lo porta ad essere divinizzato ma è nient'altro che la divinizzazione di una zucca. Detto questo ecco e quindi abbiamo detto che Seneca si prende le sue belle soddisfazioni nei confronti di Calligola e di Claudio e adesso vediamo appunto in particolare il suo rapporto con Nerone. Allora posso che secondo Seneca e secondo anche la filosofia stoica la monarchia era la forma perfetta di potere politico e Seneca pensa con Nerone visto appunto come abbiamo detto prima che si trova in una posizione privilegiata di pedagogo del futuro Princeps pensa di poter attuare con Nerone una specie di assolutismo illuminato quindi di poter consigliare il suo Princeps il Princeps che tra l'altro viene educato da lui stesso e allora scrive delle opere in cui dà dei consigli a questo Princeps per esempio ricordiamo il trattato De Clemenzia. De Clemenzia Seneca elabora un programma di governo per il principe e cioè cosa dice dice che la clemenza è la virtù più importante per un principe quella virtù che differenzia il principe dal tiranno quindi alla giustizia che era la virtù più importante per il governante secondo Cicerone Seneca preferisce la clemenza ma perché il principe il monarca deve comportarsi con i suoi sudditi come fa il padre con i figli per cui ecco deve mostrarsi sempre clemente sempre misericordioso e non deve indulgere alle punizioni men che meno alla condanna a morte se non in casi estremi quindi la clemenza la virtù più importante inscindibile dalla giustizia che rende appunto il re giusto. Seneca scrive anche delle tragedie otto tragedie scritte per Nerone infatti destinate alla recitazio privata in cui mette in scena i pericoli della tirannide cioè fa vedere a Nerone degli esempi di tiranno crudele e quindi fa vedere a Nerone degli esempi negativi mettendogli sotto gli occhi come non dovrebbe essere un principe. Per esempio tra queste tragedie ricordiamo proprio quella più significativa il Tiestes perché racconta tra l'altro un mito molto significativo la storia dei due fratelli Atreo e Tieste. Atreo è il contrario del Rex Iussus perché sceglie nei confronti del fratello Tieste una punizione che è il contrario della clemenza perché è una punizione crudele ed è anche contro ogni legge umana perché cosa fa Atreo nei confronti del fratello Tieste? Il fratello Tieste aveva tentato di rubargli il regno e anche la moglie e allora Atreo cosa fa? Cattura i figli di Tieste li uccide e poi fa finta di riconciliarsi col fratello lo invita a un banchetto e nel banchetto gli dà impasto al fratello Tieste le membra la carne dei suoi figli. Quindi una punizione crudele, una punizione che l'abbiamo capito il contrario di ogni umanità e di ogni tipo di clemenza. Quindi un esempio che Nerone non dovrebbe seguire anche se Seneca si rende conto che Nerone sta seguendo proprio quell'esempio. E veniamo adesso a Lucano, l'altro intellettuale di questa triade. Lucano è il nipote di Seneca e come sappiamo dapprima viene accolto benevolmente da Nerone nella sua corte però poi anche lui finisce condannato a morte e quindi suicida per aver partecipato alla congiura dei Bisoni. Anzi alcuni storici pensano che Lucano ne sia stato una delle menti ideatrici. Tra l'altro Lucano si scontra con Nerone per aver composto un poema alla Farsalia o Bellum Civile fieramente filo repubblicano che sicuramente fece arrabbiare moltissimo Nerone tanto che Nerone a un certo punto proibì a Lucano di scrivere e pubblicare i suoi versi. Come sappiamo infatti la Farsalia o Bellum Civile è una sorta di anti-Eneide. È un poema epico storico in cui si narra della guerra civile tra Cesare e Pompeo e in cui si vede nella vittoria di Cesare e quindi nella fine della Repubblica l'inizio della decadenza di Roma. Quindi ecco perché questo poema fece arrabbiare tantissimo Nerone. Tra l'altro in questo poema noi troviamo nel proemio un encomio a Nerone quasi sicuramente ironico. Perché? Perché Nerone è rappresentato come l'erede di Cesare e Cesare nella Farsalia è una figura negativa perché ripeto è il tiranno che pone fine alla libertas repubblicana. Tra l'altro viene visto come un uomo ambizioso, assetato di potere, un uomo spregiudicato che per arrivare al potere personale non ha nessuno scrupolo né morale né religioso. E se Enea è l'eroe Pius, Cesare è l'eroe Empius in quanto appunto non rispetta nessuna legge né degli uomini come per esempio quando oltrepassa il Rubicone né quella degli dei. quindi naturalmente presentare Nerone come l'erede di Cesare non è una bella immagine e sicuramente Nerone lo capì. Tra l'altro in questo encomio si legge che Nerone farà del bene solo da morto quando verrà divinizzato, quindi non da vivo, farà del bene solo da morto quando verrà divinizzato come del resto anche Cesare che era stato divinizzato da Augusto. Quindi capiamo benissimo perché Lucano partecipò alla congiura dei Pisoni e la fine che fece. Un altro intellettuale che bazzicava nella corte di Nerone, anzi come ci racconta Tacito alla corte di Nerone era eleganze arbiter, cioè arbitro di eleganza, di cultura, di buon gusto, addirittura consigliava Nerone proprio sull'estetica, sul buon gusto, sulla cultura. Però anche Petronio, anche se allora sarebbe il presunto autore del Satiricon e sappiamo che nel Satiricon non c'è nessuna presa di posizione politica. Però almeno il Petronio di cui ci parla Tacito è quell'intellettuale che muore, suicida perché è accusato di aver partecipato alla congiura dei Pisoni. Morirà non da filosofo stoico ma da esteta però si suiciderà proprio per non farsi condannare a morte dallo stesso Nerone. E Tacito racconta che al momento del suicidio Petronio nel suo testamento finalmente potè togliersi dei sassolini dalle scarpe e quindi scrivere tutto quello che pensava di negativo su Nerone, quindi descrisse per filo e per segno le turpitudini del principe e poi sigillò il testamento e lo inviò a Nerone. Quindi una forma di vendetta postuma ma comunque una forma di vendetta chiara e precisa nei confronti appunto del del princeps tirannico e dispotico. Ecco quindi queste sono le tre figure di intellettuali che tra l'altro subiscono la stessa sorte e finiscono tutti e due suicidi nella congiura dei Pisoni e che si pongono come fieri oppositori del despota Nerone.